signori benvenuti in questo nuovo video il percorso di in cucina con continua ridendo e scherzando siamo arrivati alla nona ed ultima puntata della prima stagione abbiamo deciso di chiudere con il botto perché oggi qui è venuto a trovarci un personaggio che sicuramente avrete già visto non vi spoilerò niente lo accogliamo con un caloroso applauso e diamo il benvenuto ad alvin il gabibbo grazie grazie bene 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 anch'io bene anch'io e quando questo popò di cose davanti a me è ancora meglio ok io innanzitutto ti ringrazio del tuo tempo per esserti ritagliato uno spazio dove venire qua perché questo è un posto è un luogo dove personaggi di spicco arrivano e si raccontano alle telecamere ci raccontano la loro storia ma nel mentre cuciniamo il loro piatto preferito e allora che cosa facciamo allora tra i miei piatti preferiti cosa facciamo secondo te di prima chito cosa diresti qua su in base a quello che vedi io la vedo già fumante e la lasagna bravissima ok perché dovete sapere che c'è stata una piccola ovviamente ci scambiamo dei messaggi per capire un po i gusti le allergie eccetera eccetera alvin avrebbe voluto comunque gli piace tanto il tagliolino al tartufo no sì anche però ho detto cerchiamo di rimanere su un qualcosa di abbastanza replicabile anche per chi a casa perché oltre ad ascoltarti magari qualcuno imparerà qualcosa certo quindi questo è tipo me esatto ecco sei quel tipo di uomo che riesce a fare due cose insieme sono multitasking per alcune cose invece prediligo non essere multitasking mi devo isolare dipende dalle cose ok allora facciamo così partiamo con un pelare la carota sono bravissimo mi dai una mano vai allora intanto posso permettermi di fare una cosa prima puoi fare quello che vuoi scusami è una è una deformazione fetticismo mio fetticismo mio per i materiali e questo questa quest'asse di legno come si chiama un tagliere questo bravissimo questo tagliere di legno mi piace moltissimo grazie ti ringrazio molto vado vai e qua spero qua spera spera io a casa ho un cesto dell'umido che prendo porto vicino cazzo se non c'è un boom c'è un buco dove si butta dentro vero facciamo così questo ragazzi è uno dei primi perché in genere si lavora sempre così con lo scartino lo scartino che poi in realtà questo non è scarto perché ricordiamo agli amici a casa che tutto quello che voi buttate all'interno qui dentro può essere riutilizzato per farci i bordi vegetali inserito comunque in un altro mondo si può sempre dare una seconda vita certo ma detto questo iniziamo questo percorso insieme guarda tu lo metto qua così sei anche più comodo se ci fosse qualcuno dall'altra parte che non ti conoscesse certo cosa gli diresti di te cosa per farmi conoscere sì c'è una presentazione diresti ciao mi chiamo alvin e ciao mi chiamo alvin e faccio un sacco di cose nella vita e per passione sono appassionato di tutto sono curioso di tutto e cerco di concentrare la mia passione la mia curiosità su degli elementi specifici inizialmente diciamo che quando avevo 12 13 anni le due principali passioni erano quella un po per l'arte che però sempre tenuto nascosto e quella per l'intrattenimento la radio in modo particolare perché quando ero piccolino i miei non mi facevano vedere la televisione vedi poi il contrappasso invece e mi ha fatto andare a lavorare in televisione ecco questo ho sempre ascoltato molta radio perché la radio mi regalava un sacco di tempo affacciato alla finestra una finestra ideale nella quale scoprire il mondo ok io mi affacciavo mettendo le cuffiettine sdraiato nel mio letto e mi affacciavo in questa su questa finestra dove potevo scoprire conoscere il mondo grazie ai programmi radio che ascoltavo grazie alla musica grazie alle storie che sentivo raccontate quindi per me quello è stato primo incontro con il mondo dell'intrattenimento poi paradossalmente iniziato a fare prima la televisione perché mi hanno chiamato a disney channel era il primo canale satellitare in italia perché stavano iniziando la televisione stava già iniziando a cambiare e quindi ho iniziato a fare disney channel poi essendo grande appassionato al mio manager ho detto senti a me piacerebbe fare la radio lui era un po il il diciamo il re del mondo radiofonico e quindi insomma conosceva molto bene quel mondo ha aiutato anche lui a svilupparlo e quindi sono andato a lavorare in radio quindi tu sei partito prima dalla radio e poi fatto questo salto nella televisione no sono partito all'ascolto della radio ma a livello professionale ho iniziato prima in televisione a disney channel con due ore di diretta al giorno e poi sono passato alla radio perché ne ero appunto appassionato e che anni erano 98 era il 1998 il 3 di ottobre abbiamo fatto la prima diretta del canale disney channel ok di due ore e mezza e quindi da lì sono iniziati è iniziata la mia avventura nel mondo televisivo ecco ok domanda quale preferisci tra i due dei mondi televisione o radio è una domanda interessante per me sono devono essere compatibili a quanto meno lo sono stati fino ad ora adesso ho cambiato un po idea però la radio ti permette di dare sfogo all'immaginazione e ti permette di riuscire a ad esprimere dei concetti solo ed esclusivamente con l'utilizzo del verbo quindi della parola quindi devi riuscire a trovare delle strade per fare immaginare la cosa che vuoi ma solo con le parole e con i suoni perché poi ti aiutano la radio c'hai una serie di strumenti la televisione invece include un'altra caratteristica è quella dell'espressività quindi tu utilizzi il tuo volto per far passare quel concetto insieme alle parole e quindi insomma entrambi devono essere compatibili soprattutto la radio per chi fa televisione è una gran palestra ok perché ti insegna a districarti i tempi in assoluto però ti insegna poi a districarti dalle dalle situazioni un po più più strane no quando sei all'angolo come fai a uscire in radio in diretta non puoi scappare devi trovare una soluzione quindi quello ti permette di allenarti e farlo poi anche in televisione o internet ma quando eri piccolo cosa avresti pensato che avresti fatto cioè sai la classica domanda che magari ogni genitore ha fatto un bambino dicendo cosa farei da grande tu sapevi già avevi già un'idea sì e no nel senso che io volevo fare il presentatore volevo fare il dj volevo fare lo speaker il regista l'attore il ballerino il cantante il produttore musicale il musicista volevo fare tutto e poi bene o male sono riuscito a fare moltissime cose di tante non ne ho mai parlato di tante ne sto iniziando a parlare ora perché tipo il mondo a cui sono legato adesso dell'arte e del design in realtà nasce quando avevo 12 anni quando mi ha regalato un aerografo l'ho sempre portato avanti ma sai i tempi si dicevano se uno ti vede fare due cose non capisce lascia stare concentrati su una bravo e ho scelto televisione e radio dopo 25 anni insomma mi sono tolto le mie soddisfazioni sia in televisione che in radio quindi sanno bene o male come come mi comporto in quel mondo lì e quindi ho detto facciamo vedere visto che è arrivato anche il covid a cambiare un pochino le carte in tavola io ho iniziato a manifestare questo mio interesse e è piaciuto moltissimo quindi poi mi sono concentrato sono rimasto concentrato su questi due mondi ma hai fatto delle scuole specifiche o cioè per fare il lavoro che hai fatto oggi oppure hai fatto il classico percorso non so che studi hai fatto allora rispetto a un tempo 25 anni fa non c'era il concetto di vai a fare una scuola un corso un'università eccetera sì c'erano erano i primi erano una cosa molto timida però era ancora un mondo in cui funzionava il fai impara casca rialzati e vai avanti quindi io ho seguito quello poi appena iniziato il percorso ovviamente ho fatto dei corsi di teatro ho fatto dei corsi di improvvisazione di pronuncia sai tutte queste cose che poi servono ora in realtà uno dice no io ti voglio come sei hai la r moscia hai questo quindi va bene esaltare le tue caratteristiche personali no invece un tempo era dovevi essere più o meno bravo a parlare nel modo corretto con con la con la dizione corretta eccetera quindi ho fatto poi una serie di cose ma perché ne ero appassionato e quindi per me era non era faticoso ok beh io devo dire che non ho forse mai avuto no forse sì forse sì no forse no una persona che faccia così tante cose come fai tu adesso e soprattutto farle bene perché io ovviamente ti seguo vedo quello che fai infatti qua dietro alle nostre spalle c'è uno dei tuoi ultimi progetti ah yes e questo secondo me ragazzi è una storia che va raccontata se vuoi ritagliarti un attimo per spiegare il concetto di questo cosa vuol dire cosa significa per te dove si può trovare guarda molto volentieri perché credo che riguardi riguardi me riguardi te riguardi voi riguardi un po' tutti no il concetto di partenza per lo sviluppo di questo è un pensiero a me piace molto pensare filosofeggiare mi piace molto la psicologia mi piace molto lo studio di come funziona il cervello quindi la la PNR quindi PNL ci sono una serie esatto ci sono una serie di cose che sono semplicemente le istruzioni per far funzionare bene il cervello sappiamo bene che nel 2024 adesso uno dei problemi maggiori che abbiamo avendo essendo sottoposti a un quantitativo di informazioni che è esasperato e non abbiamo gli strumenti per sceglierli quindi ho detto io devo studiare bene come funziona il cervello per capire come funziona la mia persona no a prescindere da questo sono partito e ho detto bene la vita è un viaggio godiamoci questo viaggio sono appassionato di design di fashion design eccetera e quindi ho detto ma come potrebbe essere la valigia di questo viaggio no un viaggio che facciamo che è solo dentro di noi perché in realtà di materiale non serve niente per questo viaggio devi conoscere bene te stesso soprattutto devi amare te stesso no e quindi e quindi questo è il frutto di di questo volo pindarico del mio pensiero e quindi dell'amore per se stessi questo sacchetto deve ricordare questo questa valigia deve ricordarti di amarti sempre perché parte sempre tutto da te e quando ti senti perso devi ritornare lì per recuperare un pochino la fiamma la fiamma no quella che brucia che poi fa fa partire il resto della vita il discorso dell'essere un un sacco di carta una valigia di carta è perché mi serviva un materiale che fosse in continua evoluzione come l'essere umano come la nostra anima che evolve no quindi tu cresci e quando ti arriva è un sacchetto di carta sembra ma un foglio di carta sembra poi quando lo inizia ad usare prende la forma della vita che tu stai stai passando e stai vivendo e quindi io questo ce l'ho nel mio studio ce l'ho appoggiato lì perché serve a farmi ricordare questa cosa in più lo porto in giro perché ci porto le cose che mi servono infatti sei arrivato con la tua borraccia sono arrivato con le mie cose perché alla fine dei conti poi ho detto deve essere uno zaino che la gente deve usare chi non lo vuole tenere come opera d'arte magari incorniciata oppure appoggiata in studio lo deve usare e questo si può usare perché è antistratto non è non resiste all'acqua chiaro se ci metti dentro un litro e mezzo d'acqua magari dopo un po' ma non serve nel viaggio l'acqua lì dentro però nel viaggio della vita nel viaggio anteriore non servono cose materiali ok beh concetto stupendo ma fa parte di un insieme di opere o un'opera a sé stante allora questa è un'edizione limitata di 100 pezzi quindi ce ne sono solo 100 pezzi tu hai un numero che non mi ricordo quale sia però hai un unico pezzo di questo e poi dopo c'è uno sviluppo però ancora non ne ho parlato quindi ok allora tanto è acquistabile giusto yes allora lo lasciamo qui sotto in descrizione quindi i ragazzi sono solo 100 non so quanti ne rimangono uno ce l'ho io l'altro ce l'ho lui quindi mi raccomando correte detto questo ho visto che però non fai solo cioè questo ma ho visto altre opere sono figlie di che cosa quelle invece e sono figlie di tutto un percorso di pensiero mio no di passione allora ti ripeto è nato tutto a 12 anni quando mi hanno regalato un aerografo io ho fatto nel letto nel muro adiacente al mio letto una cosa che aveva un impatto pazzesco i miei amici che venivano dicevano wow che cos'è io non gli avevo mai detto niente era una cosa facilissima da fare però l'impatto pazzesco era un cielo blu notte con dei fulmini e fatti con l'aerografo e quindi con le sfumature del caso dà un'idea incredibile da lì poi ho sempre portato avanti ma senza mai parlarne durante il covid stavo affrontando e passando un periodo degli anni un po' difficili e mi serviva vedere colore a casa colore forme che mi piacessero e quindi ho iniziato a dipingere tele e appenderle in casa poi le fotografavo le mettevo su instagram sono piaciute mi hanno chiesto di fare una personale a modena e da lì essendo andata sold out è piaciuta moltissimo mi hanno contattato altri ne ho fatte altre quindi il percorso insomma ha preso una piega che mi è piaciuta molto molto e ho cercato di fare quello che sono cioè andare non nel mondo della tela perché non sono solo un pittore mi piace affrontare il design mi piace affrontare anche in questa casa ci vedrei benissimo uno dei miei cuori che colano scultura che è un altro elemento che contraddistingue la mia arte che è simbolica ci sono molti simboli no ok e quindi insomma affronto un po tutto quello che mi passa per le mani dalla moda al design alle tele alle frasi poetiche insomma una serie di cose che bello duelire.com se vi va di insomma questa pippa parlata magari non mi interessa no no invece secondo me vedendo le immagini vi piace di più ecco secondo me è giusto contestualizzare intanto poi comunque vai vai mangia ma certo siamo amici possiamo fare quello che vogliamo molto bello questo discorso dell'arte mi colpisci nel profondo perché io faccio cucina ma arrivo da quel mondo ok perché io ho fatto il liceo artistico l'accademia delle belle arti di Brenna con indirizzo design quindi sono anch'io molto sensibile a questi temi infatti volevo proprio che tu ne parlassi perché è una cosa che a me piace molto secondo me da casa per chi lo guarda e per chi ti conosce scoprire questo lato artistico magari più sentimentale perché c'è chi è abituato magari a vederti inviato da qualche parte certo e allora questo secondo me potrebbe essere molto interessante domanda com'è stata la vita sull'isola perché ovviamente sappiamo tutti che è un programma sappiamo tutti più o meno come funziona da quello che vediamo ma da dentro cioè tu come l'hai vissuta com'è lo rifaresti la giornata più difficile insomma tutte queste cose un po' diciamo non ti dico di rivelare cose pazzesche però faccia assaporare vivere quel momento portaci sull'isola con te cosa mi diresti dieci cose che sono successe o che ti sono rimaste impresso che non lo so in qualche modo ti hanno allora io in otto anni di isola ne ho fatte cinque edizioni ok due non le ho volute fare e una non ci sono state le insomma le termini esatto i termini per dopo la mia prima isola io non volevo più farla ok quindi ti faccio capire già com'era la situazione l'isola che che si vede in televisione è un'isola intrattenimento a mio giudizio uno dei reality più interessanti perché appunto prevede il la sopravvivenza per quanto sia un gioco però ci sono un sacco di elementi che ti portano a dover sopravvivere o comunque convivere con delle situazioni che sono forzate tu sei su un'isola con sei persone magari cinque ti danno fastidio e ne hai solo amica una oppure no quindi tutti questi elementi a me sono sempre piaciuti moltissimo ed è quello che voi vedete voi ma vivere l'isola da là un'altra roba è proprio un'altra roba perché comunque l'ondura sia un paese meraviglioso di cui io poi mi sono innamorato perché ci ho passato più di un anno della mia vita in totale un anno e mezzo però è un paese che ha molte difficoltà e molto molto povero ci sono grandi problematiche quindi insomma mi sono sono andato a conoscere una realtà che è molto 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 difficile e questo ha cambiato anche le prospettive rispetto alla realtà che viviamo noi quotidianamente quindi quanto siamo fortunati a fare tante cose mi è successo di tutto proprio ma veramente di tutto tu di una cosa anche la più brutta e purtroppo mi è successa quindi però ti parlo delle cose divertenti e belle che è meglio sì forse sì mi sono rotto un tendine giocando a basket perché là non c'è niente c'era un appezzamento di cemento anche un po' messo malino e un palo dove c'era una volta un canestro però solo un palo gigante no allora i fallegnami ho fatto costruire questo canestro e ho detto almeno mi alleno sono appassionato e ho passato tanto di quel tempo ho sudato tanto di quel sudore su quel campo con 43 gradi che però è stata un po' la mia liberazione mi tenevo allenato lì poi facendo qualche partitella anche con i ragazzi onduregni eccetera che c'erano da quelle parti ho spaccato un dente ho spaccato un tennine quindi mi ci sono dato come in tutto quello che faccio al 100% il cibo visto che stiamo parlando di cibo consisteva in carote riso pollo e poche altre cose perché la dieta lì è piuttosto semplice e quindi ti mancano la pizza ti mancano il sushi anche semplicemente quindi dopo già due settimane che sei lì tra di noi che siamo 140 persone tipo gli simpson 140? sì più o meno poi a seconda dell'edizione più o meno 120 130 140 persone che vivono in questa realtà che è un villaggio è un piccolo mondo un micromondo ok e quindi tu vedi come nei simpson tu esci vedi sempre Bart vedi sempre Homer vedi sempre Milaos sì sì sempre quelli ok e poi negli anni del lockdown non potevamo vedere nessun altro neanche fuori quindi era una roba che è singolare però ho vissuto delle cose pazzesche lì dentro quindi tu alla fine una volta lì rimani lì fino alla fine del programma o riuscivi a tornare indietro? no 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 perché i primi anni io impiegavo tre giorni per arrivare là quindi poi hanno cambiato dei voli eccetera hanno reso la cosa un pochino più semplice però sempre due o tre cambi di volo devi farle ok e poi devi fare tanta macchina perché comunque sono tre ore e mezza quattro ore di pullman dall'aeroporto quindi insomma è una cosa abbastanza impegnativa ecco quindi tu sei praticamente loro sono sull'isola e tu ogni volta fai avanti e indietro tu sei sulla terraferma e fai avanti e indietro poi per carità i primi anni io facevo tanta barca lì è oceano mare aperto è certo quindi c'è successo di tutto nell'andare e tornare sempre però poi negli ultimi anni con l'elicottero l'ho sempre trattato benissimo quindi hai preso più elicotteri che taxi nella tua vita probabilmente sì non avrei mai pensato un giorno di dire andrò a lavorare per un anno e mezzo della mia vita in elicottero sì quelle cose pazzesco e poi sono appassionato anche di volo perché tra le cose che volevo fare da ragazzino c'era anche il pilota davvero? di jet, di caccia, ero abbonato alle riviste quindi poi ho fatto aeromodellismo quindi mi costruivo gli aerei in balsa con il motore hai mai provato a pilotare da solo? a pilotare da solo? o comunque con un amico di fianco? con un istruttore? in teoria non si può però ok no però mi hanno fatto buttare giù con il paracaduto da un aereo quindi che spettacolo quell'esperienza sì per fuori in 60 secondi su Italia 1 Vic mi aveva invitato mi fa ma vieni vieni io ho detto Vic sei sicuro? sì andiamo ho detto va bene andiamo e ho provato che spettacolo beh immagino che tu comunque abbia una quantità di c'è stata un'edizione che ti è piaciuta in particolare o comunque per te era lavoro quindi la trattavi come se fosse hai fatto 5 volte lo stesso lavoro cioè nelle edizioni che hai allora in ogni edizione succedono cose io poi le ho sempre fatte pensando che fossero le ultime per me perché per me è uno dei segreti tra virgolette per godersi appieno le cose è fallo come se fosse la tua ultima volta prima e ultima così non lo farai mai più perché mi è successo in passato di fare delle vacanze incredibili degli interrail oppure delle vacanze dove ho toccato dei luoghi e ho detto li devo rivivere pensando che avrei rivissuto le stesse emozioni invece poi dopo non è così no anzi e quindi da lì mi sono detto ogni cosa che faccio la devo fare come se fosse la prima e l'ultima volta quindi ogni isola per me è sempre rimasta a sé stante è chiaro che sono legato di più all'ultima perché è stata per definizione poi la mia ultima poi non si può mai dire nella vita ci mancherebbe come però per me sì io avevo dato tutto ho dato tutto all'isola e me la sono goduta proprio tantissimo quindi direi quella del 2023 2023 ma posso dire che da casa si percepiva un po' di aria strana tra te e ilary questo punzecchiamento un po' non la sopporto lei cioè non la sopporto posso dirti che sei stato bravissimo sto scherzando no è una mia amica che poi se no mi scrive a bello no no siamo amici da più di vent'anni e abbiamo sempre avuto lo stesso manager ti racconto questa cosa che ti fa capire perché parlavamo in quel modo e vent'anni fa franchino che purtroppo ora non c'è più però è stato un grande veramente e lo riconoscono in tanti quando ero in giro con lui mi diceva perché poi parlava con una voce Sandy manda un messaggio alla ragazza della porta a cam che la prendiamo un po' in giro allora io gli mandavo un messaggino la prendevo in giro e lei mi rispondeva a modo suo immagina ilary che mi risponde e passavamo tipo 20 minuti 40 minuti a piegati da ridere quando lui era con lei diceva lei Sandy manda un messaggio a quell'altro e parlava un po' così e quindi c'è sempre stato tra me e lei e questa roba di prendersi in giro ok a un certo punto arrivi dopo aver fatto tante esperienze nella vita arrivi a mollare il freno che forse è la cosa più liberatoria e più bella che ci sia infatti Franchino ci diceva sempre Sandy ma voi dovete fare come siete nella vita non dovete fare quelli puliti, precisi voi nella vita fate ridere quindi ok e alla fine forse in maniera automatica non l'abbiamo deciso in maniera naturale si è slegato a quel qualcosa, si è liberato e quindi abbiamo portato quello che siamo nella vita lì infatti da casa ogni tanto c'era l'impressione di dire ma o non si sopportano o c'è qualcosa che non va infatti per questo guarda entrambe le cose è stata mia moglie a chiedere digli perché se davvero litigavano se ti riesce a fargli i complimenti perché ha sempre avuto un modo di fare tranquillissimo, educato e pacato che poi litigavamo cioè era litigata a tutti gli effetti erano litigate per delle robe stupide però una cosa bella tra me e lei è che non la prendiamo mai sul personale ok come dire non siamo quel tipo di persone per niente no anzi per me lei può dire qualsiasi roba su di me tanto che cosa mi può ferire no anche se mi ferisce ah me l'ha detto lei io sono sicuro e so quello che sono io no e allo stesso modo lei quindi quindi non c'è possibilità di scalfire l'uno nei confronti dell'altro assolutamente bene bene mi hai elevato un grosso dubbio probabilmente forse anche qualcuno a casa però qualche volta mi ha fatto arrabbiare davvero eh perché no ma anche fuori dall'isola ah ok 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 molto interessante senti ma si scusami sono molto di beh ma poi tanto adesso poi ci intercambiamo vai vai domanda che rapporto hai con la cucina cioè riesci a ritagliarti del tempo ti piace è una cosa che fai volentieri è un rapporto non rapporto ok o meglio per me il cibo è benzina ok se questa benzina è una benzina ricercata e buona e sopraffina meglio ancora ok però non ho mai impiegato tempo per capire come rendere questo asparago un pochino più croccante piuttosto che un pochino più gustoso sapori no queste cose qua questa alchimie dei cibi eh non le ho mai avute ecco ok non e quindi sono però stimo moltissimo le persone siccome ho conosciuto molti chef eh nel mio percorso hanno un'attitudine che è molto simile a quella che ho io nel mondo dell'arte o per come tratto il mio lavoro di intrattenitore quindi ehm quindi ho grande stima ok e non vedo l'ora di provare questa lasagna perché è una roba mi han detto di come cucina le lasagne lui e quindi bevi dico mia moglie ascolta ok seguite imparate esatto impariamo impariamo ad oggi il programma che ti è piaciuto di più condurre il radiofonico o comunque al quale hai partecipato con un ambiente che ti è piaciuto di più che rifaresti domani qual è? se ce n'è uno o i primi tre allora sicuramente giusto per non fare favoritismi o no certo sicuramente l'ultimo ehm che è ehm con Katia Follesa ok ehm che abbiamo fatto cinque anni a R101 io e lei ehm dopo che io avevo mollato la radio perché io nel 2016 stavo facendo Bring the Noise l'isola dei famosi ero molto impegnato ehm su quel fronte lì e franchino già mi diceva la radio adesso basta hai fatto vent'anni se no ti lega troppo a una condizione che non va bene per come sei te basta e e mi ero convinto dopo qualche anno mi sono convinto l'ho mollata a Bring the Noise c'era Katia Follesa e gli ho detto guarda io ho mollato la radio però se dovessi mai ricominciarla la ricomincerei con te ok e l'anno dopo l'ho fatto e quindi abbiamo ricominciato e abbiamo fatto cinque anni meravigliosi perché con lei c'è un rapporto ehm stupendo di amicizia e di grande stima professionale quindi riusciamo eravamo incastrati benissimo come con Ilari ecco insomma eravamo incastrati non così litigiosi però e poi ehm gli anni precedenti a 105 col DJ Giuseppe ok ehm sono stati meravigliosi si chiamava Music and Cars c'è ancora adesso sì 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 e l'abbiamo fatto partire noi insomma quel Music and Cars gli abbiamo dato una forma tutta nostra e era divertentissimo funzionava piaceva e poi uno dei primi programmi che ho fatto a RIN che era Radio Italia Network nel 99 o no 2000 forse che era la stanza di Alvin ah era un programma serale e io lì ho iniziato praticamente la mia avventura radiofonica diciamo ok bello ma tu hai rapporti ad oggi con i ragazzi delle altre radio perché noi ricordiamo che tu sei qui perché sei stato sfidato poi da Fabio Alisei eccetera Fabio Alisei Alisei non conosco no vero va bene allora no ragazzo è passato di qui ha detto chiamatemi Alvin pensa che è venuto in Honduras perché c'erano Marco Mazzoli e Paolo Nois no l'anno scorso che tra l'altro Marco Mazzoli ha vinto l'Isola dei Famosi è venuto giù perché ha fatto un paio di volte le sorprese ai ragazzi ed è capitato in due o tre giorni in cui io non c'ero quasi mai quindi ci siamo ci siamo incrociati però siamo grandi amici c'è grande stima di Fabio lo sa è reciproca quindi è una cosa bella ho rapporto con con molti di loro soprattutto ovviamente a 105 perché ho fatto più di 20 anni lì quindi è stata la mia famiglia per lungo tempo però anche di altre radio spesso ci si incrocia perché comunque è una passione che rimane per quanto io abbia smesso però rimane hai mai pensato di buttarti nel mondo social streaming? cioè tipo aprire un Twitch dove Alvin racconta le sue cose? sì mi si è paventata la possibilità però volendo fare le cose fatte bene preferisco talvolta essendo multitasking comunque concentrarmi e fare delle cose fatte bene quindi io di radio quello che mi darebbe Twitch ora io l'ho fatto per 25 anni con la radio mi sfogavo lì parlavo lì e quindi al momento non ho quel tipo di esigenza ok domanda i programmi radio ai quali hai partecipato eccetera nel senso sono programmi che ti hanno detto guarda noi vorremmo fare questa roba qui vieni tu a condurlo oppure arrivi tu con un'idea e loro te la provano cioè come funziona la struttura di un programma radiofonico allora io credo in generale che nella vita non ci sia un solo modo per far accadere le cose e quindi ce ne siano vari e ognuno arriva con il suo modo ok talvolta è abbiamo tra l'altro sì c'è un altro programma e credo sia ancora in onda a cui ho dato il titolo io praticamente oh figo e quindi vedi le cose nascono parlando col direttore perché non lo facciamo diventare questo era uno dei nomi qui che gli piaceva molto però poi l'abbiamo fatto diventare music and cars eccetera quindi però poi l'ha utilizzato per un'altra roba per quanto riguarda programmi miei c'era l'esigenza di fare qualcosa in quel quello spazio di palinsesto e avevano pensato alla mia figura e quindi da lì abbiamo sviluppato un contenuto che un contenitore che mi rappresentasse in modo particolare quindi per me è stato così ok perché mi sono sempre chiesto come funziona nel senso che partire dal presupposto che io ovviamente conosco bene questo mondo non il vostro il tuo e quindi questi incontri nascono proprio con l'esigenza di cercare di spiegare nel modo più semplice possibile anche per chi ha casa come funziona il tuo mondo insomma certo certo e quindi idee cioè hai mai avuto l'idea di ecco ecco questa è la domanda se io avessi per esempio volessi fare questa roba qui in televisione che consiglio mi daresti per partire cioè devo avere da chi devo passare cosa devo fare perché magari secondo me molti di noi diamo un po' tutto per scontato e che cacchino so magari arriva uno un giorno da lassù e ti dice che bello lo voglio fare ma se invece devo propormi che strade devo prendere secondo te se non ho un agente o un manager che mi rappresenta devi proporti , così come accade per tutte le cose nella vita crederci tanto perché come ritorniamo al discorso di prima dell'amore per se stessi devi partire sempre da te crederci un sacco farlo come stai facendo al 100% e sperare che in qualche palinsesto ci sia esigenza di un contenuto simile al tuo però siccome non lo puoi sapere devi continuare a fare il tuo finché magari ti chiuderanno una porta in faccia due porte in faccia tre porte in faccia perché gli insuccessi sono sempre maggiori dei successi e nella vita di uno che fa il nostro lavoro bene o male sono così Paolo Maldini diceva questa cosa io sono molti di più i gol che non ho fatto che quelli che ho fatto e noi lo conosciamo come Paolo Maldini che tra l'altro saluto ciao Paolo quindi è una cosa alla quale bisogna abituarsi ok se ci credi fortemente continua a chiedere e proporti alle televisioni poi ora la frammentazione televisiva ha raggiunto dei livelli pazzeschi quindi ci sono talmente tante possibilità di andare a fare un contenuto in televisione quando un tempo invece c'erano sempre tre reti fondamentali poi c'era qualche rete satellite adesso si è frammentato tutto molto di più quindi c'è più possibilità tra virgolette ok il tuo più grosso insuccesso? uff in che mondo? quello televisivo? in successo cosa intendi? non lo so la cosa che ti ha fatto rimanere un po' più che ti ha fatto storcere il naso che dici cazzo ci tenevo tanto non l'ho fatto piuttosto che non ho raggiunto quell'obiettivo piuttosto che un insuccesso come ti dicevo prima sono tantissimi tantissimi ah ecco forse dagli inizi io ho iniziato facendo Disney Channel ricordo e poi sono passato a fare Italia 1 e poi ho fatto Rai 2 Top of the Pops quindi tutti i contenuti molto musicali avevo vent'anni e il riferimento in quegli anni lì era MTV certo e quindi moltissimi ancora oggi mi incontrano e mi dicono ma quando facevi MTV pazzesco e io non glielo ricordo neanche più che non l'ho mai fatta però la ragione c'è perché io facevo Top of the Pops che era un contenuto musicale che tutti ricordano CD Live eccetera tra l'altro fatti con Hillary anche certo e quella roba lì in quel periodo lì era MTV cioè non era Rai 2 non era Italia 1 tu vedevi il contenuto musicale vedevi me associavi a quel mondo lì però MTV non l'ho mai fatta non mi hanno mai voluto ok e quindi anche perché ero simile a Marco Maccarini che saluto che tra l'altro poi è stato un naufrago dell'isola dei famosi esatto ero simile a Daniele Bossari altro grande amico ciao Dani e quindi eravamo troppo simili proprio mentre un mio amico Marcello Martini che era il moro di Disney Channel perché Disney Channel c'erano i biondi e i mori io e lui abbiamo iniziato a fare i presentatori mancavano mori a MTV hanno preso lui quindi però non me la sono presa male perché il mio manager mi diceva ma si è chiuso una porta si apre un portone stai scherzando infatti dopo sono andato a Italia 1 ok quindi la vita è da seguire un po' così non è come la vogliamo noi spesso magari la direzione sì però poi si sviluppa in modi che sono magici in qualche modo e il tuo più grande successo invece quello che ad oggi dici io quello l'ho fatto oppure ho raggiunto quel traguardo nella vita sia radio che musica secondo te qual è ad oggi? sono spicchi di porzioni diverse vari vari dividerei la mia vita forse in slot temporali ok ci sta Disney Channel è stata una palestra incredibile per me un grandissimo successo a livello internazionale l'ha fatto Justin Timberlake certo c'era Britney Spears quindi era tutto un mondo poi in diretta andavo sempre a Euro Disney si chiamava ai tempi adesso è Disney in Paris e parlavo con gli inglesi perché avevamo gente inglese quindi per me quel mondo è in quel periodo lì poi dopo ti direi è arrivato Top of the Pops quindi quel mondo lì dei ragazzi sono stato in crescita bimbi ragazzi Top of the Pops e CD Live e poi sono passato a Verissimo è stato un contenitore per famiglia il primo mio contenitore per famiglia dove ho iniziato a fare cose ho fatto 6 o 7 anni 8 molto belli con viaggi interviste di tutti i tipi e sono felicissimo di averlo fatto perché sono entrato nel mondo della famiglia poi è arrivato Bring the Noise e ho fatto Bring the Noise il mio primo programma come lo sognavo da bambino è andato benissimo e quindi siamo felicissimi poi purtroppo per esigenze di rete praticamente non è più andato in onda però insomma rimane un fiore all'occhiello e poi l'Isola dei Famosi quindi televisivamente ti direi questi radiofonicamente vabbè il programma con il DJ Giuseppe come detto prima il programma con Katia Follesa fenomenali e e nell'arte il mio cuore che cola per dire che sta piacendo moltissimo è un oggetto di interior design chiamiamola una scultura che però ha un senso molto è molto logico e molto molto filosofico e quello non avrei mai pensato di riuscire a farlo e invece ho incontrato una persona che mi ha detto mi piace un sacco facciamolo e e e l'abbiamo fatto quindi ti direi e poi nella vita privata ai figli bello bello io sono papà da sei mesi di una bambina Maddalena che saluto magari quando sarò più grande e vedrà questa cosa ciao ciao cucciola è un pezzo di di cuore un salto che nella vita non pensavo di fare perché ti dico non lo sai mai non lo sai mai come va soprattutto perché noi arriviamo da generazioni diverse è vero quello che si dice sai il futuro dei giovani cosa lascerà ai tuoi figli in che mondo vivrà eccetera siamo in un periodo comunque arriviamo da un periodo storico non proprio bellissimo certo quindi uno è stata veramente parsimoniosa come scelta come approccio eccetera eccetera è difficilissimo cioè i primi tre mesi sono una roba massacrante poi chi mi dice bambini piccoli problemi piccoli no peggiorerà tu sappi che peggiorerà quindi vivi sereno ok grazie quindi quindi se potessi darmi un consiglio sotto quel lato lì cioè tu che comunque hai più di un bambino come il consiglio più ampio che si possa dare che sembra il più banale ma in realtà è il più prezioso goditi ogni momento anche quando ti fa arrabbiare a me mio piccolino gli stavo cambiando il pannolino no sai una cosa pazzesca no gli cambio il pannolino picci 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 psss e mi ha fatto pipì in faccia e in quel momento lì però tu dici ma ma e mi faceva ridere gocciolavo tutto una cosa bruttissima mentre stiamo cucinando cari amici la lasagna di Alvin guarda che meraviglia però goditeli anche quando ti fanno arrabbiare no? adesso i miei sono un po' più grandi sono adolescenti preadolescenti quindi però abbiamo un rapporto meraviglioso parliamo di tutto eccetera e ogni tanto mi fanno arrabbiare ma anche quella è vita quindi goditela non 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 rovinare nulla ecco per quanto tu possa fare riesci a gestirti tutto quello che fai con uno spazio per la tua famiglia non è facile nel senso che appassionato come sono io di così tante cose e con tutti i progetti che continuo a portare avanti contemporaneamente non è facile ok però dipende se tu decidi di mettere un perno nella tua famiglia la famiglia gira un po' tutto intorno lì quindi dipende da dove vuoi mettere il perno tu per me famiglia e lavoro e il lavoro è vita e la famiglia pure perché mi sono scelto il lavoro che volevo fare io e per fortuna sono riuscito a farlo con grandi difficoltà perché poi non è che accade così non è che dici ah sei fortuna no devi avere la capacità di rialzarti sempre come ti dicevo prima non nelle cadute che fai nella vita nelle porte in faccia ti tratteranno molto molto male rispetto a come uno sembra mi vede all'idola di famosi abbronzato col cappello che fa le battute eccetera però non è così tu devi essere in grado di recuperare quell'entusiasmo lì dopo che uno ti ha coltellato paradossalmente e metaforicamente quindi è quella la tua abilità credo quindi il consiglio è goditi goditi tutto la domanda qual era è il consiglio o no perché poi io parto no era il consiglio e poi se come riesce a ritagliarti il tempo con la tua famiglia è quello devi sapere che se il perno è nella tua famiglia nel tuo lavoro devi girare tutto intorno lì certo quindi lì devi tornare certo e che rapporto hai con i tuoi adolescenti adesso? con i tuoi figli? cioè nel senso è un rapporto che è in continua crescita quindi ci sono fasi no? quando tu adesso la tua hai sei mesi è un picciolino ancora picciolino quindi te la coccoli poi inizierà ad andare in giro e quindi tu dovrai alzare e seguire il suo percorso però non siamo pronti a nulla di tutto questo quindi io sono appena entrati nella fase adolescenziale e preadolescenziale quindi anche io sto scoprendo cose ok e mi baso su quello che ho vissuto io in prima persona infatti la prima cosa che dico loro quando la mia piccola ieri mi raccontava di un piccolo problema che ho avuto con un'amica e io mi dicevo so quanto ti fa sentire male perché sai quante volte ci sono passato io le racconto la mia esperienza e dico io ho vissuto questo con questo mio amico con questa mia amica eccetera eccetera e come mi sono comportato come mi sono comportato così ho sbagliato però perché poi dopo è successo questo quindi è un rapporto molto di racconto rispetto alle mie esperienze che ho avuto e e devo dire che ascoltano molto poi magari fanno di testa loro però beh è normale comunque è un'età nella quale però credo che ci sia tanto da apprendere tanto da da capire da un papà come te no? perché comunque cacchio hai fatto un sacco di cose quindi bello bravi sono sono contento di di sentirti così perché spesso e volentieri sembra o passo dall'altra parte che chi sceglie un lavoro del genere in qualche modo sia una persona assente o un genitore che non si interessa eccetera quindi sentirti che mi racconti così ma ne parli con questa enfasi è bello fa piacere riempie guarda credo che che sia l'elemento più importante anche perché avendo vissuto per più di un anno e due mesi in Honduras sai sono stato lontano dalla famiglia tanto tempo quando erano piccolini loro quindi comunque l'assenza in periodi della vita c'è in qualche modo ma dipende da come la colmi dipende se questa assenza è un'assenza che rovina perché manchi veramente o no e io ho sempre cercato di mantenere in equilibrio la nave e quindi poi ognuno ha i suoi strumenti per farlo però esserci è fondamentale sono d'accordo sono d'accordo perché poi ognuno di noi ecco tu che rapporto avevi o che hai con i tuoi genitori nel senso che erano presenti quanto stai cercando di esserlo tu o magari meno magari di più sì no sono sempre stati molto presenti ho un bellissimo rapporto con entrambi con mio fratello siamo una famiglia molto unita però non sono stati presenti rispetto diciamo così ai modi moderni di essere presenti in una famiglia perché ovviamente io ho una certa età ho fatto 19 anni l'altro ieri quindi quindi c'erano dei modi di essere genitori diversi sempre presenti molto presenti devo dire la verità ma che mi hanno sempre lasciato la libertà di fare per esempio io ho fatto un lavoro che era contro le aspettative dei miei in qualche modo perché ho fatto la televisione e i miei non neanche mi facevano vedere quindi immagina infatti come dicevi prima il contrapatto però mi hanno dato la libertà mi hanno detto se ti vediamo sereno e continui a essere tra virgolette bravo devi seguire il tuo la tua vocazione no? ok in qualche modo e quindi hanno saputo essermi vicino nonostante avessero dei metodi molto molto rigorosi di educazione ecco trovi differenza cioè come rigidità tu cioè quello che hai vissuto tu con quello che puoi far vivere i tuoi figli sì adesso sì devo dire perché la rigidità è rimasta nella disciplina legata alle cose pratiche ok cioè tu cucini come stai facendo tu stai già pulendo che è una cosa che per me è fondamentale invece di lasciare la cucina incasinata che poi magari non è sbagliato però è un ordine mentale esatto è un ordine mentale tieni ordine così appena hai finito non devi poi riposarti e ripulire tutta la cucina è già pulita quindi in questo tipo di lavati i denti dopo mangiato tutte queste cose qua il rigore è lo stesso perché credo sia fondamentale importante per quanto riguarda le altre cose cerco di trattarle rispetto a quello che ho vissuto io e come avrei voluto essere trattato forse io ok che non è direttamente proporzionale con come si sono comportati loro no ok no esatto non so però che risultati darà perché su di me ha avuto dei risultati è stato molto intenso quindi non lo so che risultati avrà però per ora funziona quindi eri un ragazzino scalmanato o eri abbastanza tranquillo no sono sempre stato piuttosto timido e tranquillo però adesso non so se c'entrino i segni zodiacali ma hanno sempre detto tu sei bilancio quindi sei sei bilancio sì davvero anche io anche tu di settembre numero 27 mio fratello è del 27 di ottobre però il 27 di settembre c'è tipo Francesco Totti o 26 o 27 un altro carissimo amico 26 o 27 comunque i bilanci sono il segno migliore sappiatelo l'ha detto Armin ragazzi io io non potevo dirlo dice lui va bene questo stronzo esatto no non lo so non me ne intendo però dicono dell'equilibrio quindi hai la faccia mi dicevano sempre hai la faccia d'angelo ma tu eh e beh quella parte lì ce l'abbiamo un po' tutti no abbiamo la luce e l'ombra no come la luna e abbiamo quella parte lì noi vediamo sempre la luce della luna sempre la stessa faccia ma c'è anche una parte in ombra no che certo che non è detto che sia brutta però è diversa magari e io l'ho tirata un po' fuori nel corso degli anni quindi non la nascondo più ecco ok beh però da fuori posso dire che trovo un uomo estremamente tranquillo piacevole passarci del tempo insieme e parlarci in estrema forma cioè sono molto invidioso cioè raga cioè guardate che po' di roba io ci metterei la prima ma che grazie forse devo giocare a basket anch'io ma no no però complimenti davvero super curato super pulito quanti anni hai te? io 37 stai da benissimo stai stai scherzando 37 nel mentre qui siamo arrivati nel momento nel quale abbiamo iniziato a mettere un po' di acqua che bolle il soffrittino inizia ad andare le verdurine sono posso fare questa cosa sentite il profumo o no? oh bravi perché questa cosa qua è da è da mamma mia adesso piano piano adesso facciamo facciamo cose facciamo cose c'è stato un momento nella tua vita dove hai detto andate a fare in culo e le lascio tutto? sì c'è stato? ma non solo uno tante volte molte volte cioè proprio di quelle che proprio basta sono qua sì però non però poi non l'ho fatto nel senso la sensazione il drive come si dice nel mondo anglosassone era quella era dire mi avete basta andate tutti a e l'ho fatto un sacco di volte nella mia testa però questo stava a significare io non posso essere come volete voi devo essere come voglio io perché sia felice ok quindi si è tradotto poi in quella roba lì non è non posso non voglio più fare il mio lavoro ok perché alla fine dei conti io ho questo sempre fatto quindi non credo di non saper fare altro ok e quindi per quanto poi abbia fatto un milione di robe perché ho fatto il regista ho fatto il montatore l'autore ho fatto lo speaker il dj facevo le serate ho fatto mille però sempre nel mondo dell'intrattenimento quindi quel mondo lì lo conosco abbastanza bene perché ho voluto conoscerlo bene cioè so come si settano le luci su un set perché ho fatto la regia ho fatto insomma ho fatto il montatore quindi so cosa poi vai a montare insomma e quello nasce dalla mia curiosità e mandare a affanculo tutto non non avrebbe avuto senso eh no perché tutto quello che ho imparato gira intorno a quello ok quindi devi riadattare riplasmare un pochino come manifesti quella tua esigenza solo quello è stato però tante volte poi questo mondo in modo particolare quello dello spettacolo è infatti poi sarei arrivato anche lì è un è un è un è un è un macello nel senso proprio di macello di cioè spietato brutale come sì vero è sì lo è è morte tua vita mia assolutamente assolutamente è sempre eh pericoloso tra virgolette eh però la vita è la stessa cosa eh sì 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 quindi non è che sto denigrando il mondo nel quale lavoro anche il mondo del il tuo alimentare tra virgolette dello chef no no è di una cattiveria infinita perché la vita è così quindi io ho smesso di ehm pensare che il mio lavoro fosse brutto no a me piace io amo fare il mio lavoro anche farlo in Hondura sotto 46 gradi vivendo tre mesi lontano dalla famiglia eccetera io ho voluto farlo ma perché sono innamorato del mio lavoro per quanto spietato sia perché non ti guarda in faccia nessuno anzi se ti possono accoltellare ti vengono vicino col sorriso e lo fanno ok però nel momento in cui sei consapevole tu sei pronto anche a quello e quindi sai bene guardarti da quelli che magari vengono col sorriso e ti propongono una roba quindi invece di dare subito ah sì va bene vediamo proviamo capiamo iniziamo e vediamo adesso ti faccio una domanda la quale puoi tranquillamente non rispondermi chi è la persona che ti ha deluso di più nel mondo dello spettacolo? ah 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 cioè che proprio ci sei rimasto di pietra puoi non dirlo eh oppure mi affalgo della facoltà di non rispondere ok però no nello stesso tempo ti rispondo parlando di purtroppo non c'è più però mi aveva fatto rimanere un po' male Lou Reed hai presente Lou Reed io quando facevo Top of the Pops vivevo a Londra in Inghilterra facevo ho fatto due anni e mezzo lì e ho conosciuto tutti tipo Pink voleva venire a casa mia perché ero italiano le piaceva il vino mi fa dammi le chiavi di casa insomma ho conosciuto un sacco di personaggi e Lou Reed invece mi ha trattato proprio male gratuitamente ci sono rimasto un po' male perché era proprio gratuito poi per carità tutte le cose ti passano però mi è venuto di fianco in un'intervista così io ero col microfono così gli parlavo l'ho accolto come tutto mi ha guardato senti a dire beh non è italiana ho detto francamente non lo so e me ne sono e se n'è andato e lì il suo manager era dietro la telecamera mi fa e lui aveva appena finito di trattare male la gente in studio quindi insomma adesso pace all'anima sua ci mancherebbe per carità però mi era giunta a volte che non fosse molto carico era un po' alterato lui in quel momento della sua vita e lui è sempre stato abbastanza così e poi ci sono tanti altri personaggi ma che senso a fare i nomi tanto no era una curiosità mia ce ne sono tanti allora facciamo così te la rigiro quelli che invece ti sono rimasti nel cuore che hai detto cazzo che bella persona oppure sono grato per la spinta che mi ha dato o mi ha insegnato qualcosa a livello lavorativo che mi ha dato quel consiglio quella roba quella perla quel diamantino che ti dice metti te in tasca usalo quando ti servirà generico generico allora ci sono state delle situazioni in cui qualche personaggio anche conosciuto mi ha sorpreso in positivo per alcuni comportamenti allo stesso modo in negativo come dicevo prima anzi mi potevo aspettare c'è quel detto che dice non conoscere mai il tuo idolo perché in quel momento lì cade il tuo sogno l'idea che hai del tuo idolo credo che sia così realmente la persona che però mi ha svoltato tra virgolette la vita nel modo di pensare nel modo di affrontare la passione che avevo per questo mondo dello spettacolo è il mio manager di cui ti parlavo qui la franchino che è una di quelle persone che credo si incontrino poco nella vita come l'hai conosciuto se si può raccontare sì io facevo Disney Channel e ogni anno a Disney Channel andavamo a Sanremo a fare interviste con gli artisti il responsabile che metteva in comunicazione gli artisti con noi di Disney Channel mi ha accompagnato a casa a Milano da Sanremo una volta mi ha parlato tu sei bravo dovresti conoscere franchino mi dai due lire io ho detto ma franchino quello che vai non da radio dj perché a tempi a radio dj c'era Albertino che lo imitava Fiorello che lo imitava e quindi perché aveva proprio questa voce particolare quindi poi ci ha fatto personaggio e io già sapevo chi era il pazzicavo nel mondo della radio di radio dj e gestiva per conto di Claudio Cecchetto che saluto ciao Claudio personaggi come Fiorello come Amadeus come insomma Giovannotti eccetera quindi era quella cricca lì gli ho detto dovresti conoscerlo non gli dai due lire ma lui è il numero uno ok sono andato a conoscerlo e una settimana dopo avevo un programma Italia 1 e non avevo neanche contratto con lui quindi l'ha fatto proprio fa ok chiamami settimana prossima ci vediamo in Corso Europa Corso Europa vado a cercare a Cologno Monzese c'è miglia l'ho incontrato lì fuori siamo andati su erano 2000 99-2000 e lì ho fatto subito un programma perché c'era esigenza di fare un programma e la figura andava benissimo un ragazzino che con la musica funzionava eccetera e quindi mi hanno fatto ma tu com'è? come ti sei sentito in quel momento? cioè io non saprei che emozioni hai provato te lo aspettavi te lo saresti mai aspettato cioè perché se a me uno domani mi dicesse vieni a Masterchef devi condurre la puntata boh non lo so io esploderei dentro probabilmente eh no l'entusiasmo è quello lì è quello di dire wow però nello stesso momento è incredulità perché io questo personaggio che di cui sentivo narrare le gesta no? perché già era un personaggio non credevo potesse essere così vicino a me in quel momento lì però a un certo punto ho detto me la devo vivere cosa sto qua a pensare che magari no me la devo vivere e mi sono affidato e poi con lui si è sviluppata anche un'amicizia incredibile tra l'altro lo stesso manager appunto come dicevo prima di Hillary di Michelle Hunziker di tanti insomma e con lui c'era una caratteristica che poi non ho trovato più in nessun altro quando mi mi chiamava e mi diceva sto cercando di edulcorare quello che mi diceva perché non ok ok dei modi molto molto diretti per dire cose ma che te le faceva capire così senza far male a nessuno quindi una capacità pazzesca e mi chiamavi dicevo io poi lo imitavo e quando lo imitavo mi chiamavi e mi chiamavi se mi pezzi di merda se mi imiti ancora una volta ti lasci in mezzo a una strada hai capito? e poi lo imitavano tutti perché Fiorello Nicola Savino Angelo Pint quindi era proprio un personaggio e mi chiamava e non avevo neanche bisogno di dirgli sì o no ok e mi fa Semi lì so da fare so già che stai rompendo il casco e non vuoi fare questo quello e quell'altro cosa facciamo? ho detto ok va bene la facciamo perché per me era questione di fiducia lui sapeva esattamente se una cosa poteva andare bene per te o no e io lo sapevo e avevo un'estrema fiducia in quel senso e per più di vent'anni non ha mai tradito questo quindi non l'ho più trovato poi un personaggio così con cui c'era quella frequenza di pensiero adesso sei legato comunque a qualcuno? sì 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 poi la sua agenzia comunque ha continuato ad andare avanti io sono con Graziella che è sempre stata la sua socia storica quindi c'è lo stesso tipo di pensiero nel tuo mondo invece come funziona? nel senso che ti chiamano e ti dicono c'è questo te lo propongono ti piace farlo vorresti farlo oppure non lo so sei tu che vai da loro e gli dici mi piacerebbe fare quella roba lì entrambe le cose dipende dalle fasi in cui sei di carriera capita che una volta che sei inserito loro sanno di avere un panel di giocatori a disposizione e lo fanno giocare quando hanno una partita in cui può giocare le sue carte quindi un po' è così poi funziona anche che io ho scritto dei programmi eccetera e ho proposto quindi sono piaciuti capita sì che ci siano le condizioni anche per fare quello oggi come oggi che la televisione è cambiata così tanto in maniera così radicale e ci sono meno c'è meno spazio diciamo così paradossalmente ti dicevo prima che la televisione si è frammentata e quindi ci sono tanti piccoli contenitori però non ci sono tanti grandi contenitori sono sempre meno e quindi è un po' più diverso adesso tu sei hai un contratto in esclusiva in genere funziona? ho avuto contratto in esclusiva per come è il mondo adesso sono libero di fare un po' quello che vuoi libero e il mondo sta andando molto di più in quella direzione perché anche noi noi come categoria content creator chiamiamola così genericamente c'è l'agenzia che ti propone viene a te ti dice sei un bel talent mi piacerebbe perché potremmo fare x y e z no? a parte le percentuali folli che si prendono perché sono il 40% secondo me di un lavoro che non fa chi è dall'altra parte e non ti adatta cioè non ti agia neanche nel farlo per me onestamente non ne vale la pena cioè se ti dico va bene io potrei farlo ma avrei bisogno del faretto della roba perché parliamoci chiaro chi fa questa roba qui parte dalla cameretta ok? non ha fatto la scuola di teatro non ha fatto il corso non ha fatto il fonico non ha fatto quindi è un self made al 100% è ovvio che se tu però poi mi chiedi facciamo il salto facciamo questo e quest'altro e ti dico cacchio però ci vogliono 10-15 mila euro di attrezzatura non ti dico compramela tu ma perlomeno trovami uno sponsor che in cambio merce faccia qualcosa ti dicono di no allora lì a me girano le scatole per quanto riguarda il mio mondo infatti adesso sono seguito da una persona con la quale non ho minimamente l'esclusiva lo tengo aggiornato su tutto dico guarda vorrei fare questa roba è un progetto che secondo te lui mi dice guarda conoscendoti per come sei mio consiglio punto di vista può essere nelle tue corde piuttosto che meno fallo o non farlo scegli tu poi chiamano e propongono però le agenzie di management ultimamente sono diventate una roba tutti che cioè io se mi trovo il lavoro per i fatti miei perché devo venire da te e darti la metà di quello che non ha senso siamo d'accordo dipende da cosa fai per me eccetera esattamente quindi volevo hai mai pensato di aprirtene una tu per i fatti tuoi è un mondo che ti piace non ti interessa no 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 tra le cose di cui sono curioso non c'è questo ok ecco come dire ok la parte gestionale per quanto riguarda l'arte il brand che insomma si sta sviluppando intorno al mondo dell'arte gestisco tutto io ma perché voglio che sia così perché è un figlio tuo perché per ora è così poi è chiaro che mi avvalgo di persone con le quali insomma condivido delle prestazioni o delle cose insomma mi trovano eccetera però all'occorrenza ok quindi conoscendo un po' di persone mi avvalgo di qualcuno e do le percentuali rispetto a quello che fanno però sul discorso come ti dicevo prima dell'esclusività su tutto adesso non ne sono più tanto convinto è cambiato il mondo sono d'accordo sono d'accordo hai qualcuno che ti aiuta costantemente un collaboratore un aiutante un assistente che ti aiuta a gestire le cose o fai tutto da solo ne ho vari a seconda delle cose di cui ho bisogno ok pensavo magari avessi uno che fosse il factotum che poi magari si muove per i fatti suoi domanda visto che sei appassionato d'arte e ho visto che insomma fai cose belle così clapis oh Federico sì lo saluto ciao Federico e beh cosa ne pensi? credo che sia geniale siamo d'accordo è nella sfera della della genialità è oltre secondo me la concezione nel mostro non lo so è un pensiero mio quindi potrei stare qui a dirti milioni di cose però io credo credo in questa cosa penso che infatti lo saluto anch'io perché io me lo ricordo ai tempi che lui era il PR lui era il PR che portava la gente a ballare figliuolo viene a ballare ci diceva dai il Tocville questo quest'altro poi è partito questo lo faccio in breve per chi di voi non lo conoscesse con questo canale YouTube dove faceva cose stupide ma con un'enorme genialità alle spalle perché sembravi l'ultimo degli stupidi ma in realtà c'era una storicità e uno schema ben preciso che lui aveva di quello che poi sarebbe voluto andare a fare e la cosa più bella è stata quando ha vinto il premio per YouTube come content creator dicendo benissimo questa era la mia ultima roba adesso sono famoso e fa comunque delle opere d'arte che oggettivamente per me sono qualcosa di poi l'arte esatto è sempre quella cosa conoscendola tu perché hai fatto insomma il tuo percorso è radicato anche nell'arte l'arte è molto soggettiva quindi ti può piacere o non piacere sì come la musica come i colori assolutamente e io rispetto rispetto tutto questo tipo di non sono qui a convincerti che quest'opera qua che ho fatto è bella no 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 ti piace non ti piace va benissimo perché a me quello che ha dato gioia è pensarla idearla certo il pensiero di partenza nel momento in cui è pronta se piace anche a te è più bello sono felice per carità abbiamo è come se una parte di questo percorso di creazione di questa l'avessimo fatta con i cervelli uniti no in qualche modo con quell'energia ok capisco benissimo perché questo concetto non è molto lontano per quanto mi riguarda da un piatto capisco sì perché la creatività che ci metto non è detto che chi è dall'altra parte dica sì wow però se sei qui lo assaggia lo sapori viviamo quell'attimo di vita insieme e poi secondo me il cibo come l'arte sono sicuramente un passaggio dell'essere umano sul pianeta terra nel senso che hai creato qualcosa esatto ok infatti il mio più grosso sogno sarebbe fare un ricettario un libro perché è quel passaggio no perché purtroppo il cibo lo fai lo mangi e è finito lì no questo rimane per sempre certo non volente o volente quindi a me manca quel passaggio però non è detto che non ci si possa arrivare ma la cosa bella l'arte è volitiva tra virgolette in questo senso forse più come come un piatto come l'attimo esatto perché c'è anche quell'aspetto lì da considerare ed è proprio si dice sempre anche lo riferisco al mio lavoro televisivo che non è tanto quello che dici e che racconti alla gente ma è la gente si ricorderà come le hai fatti sentire in quel momento quando tu hai detto una cosa non lo so io ho fatto un uno speech all'isola dei famosi dell'anno scorso l'ultimo quando ho abbandonato la palapa che racchiudeva i miei dieci anni passati lì tra virgolette quindi e l'ho fatto per me perché io dovevo dire a me stesso che è stato un momento di vita pazzesco questa cosa qua è arrivata alla gente ma non ti sanno dire le parole che ho usato certo ti sanno ricordare il sentimento che ci hai messo nel farlo come nel sentimento che sta mettendo in questa lasagna che mangerò io però non voi io la mangerò esatto allora siamo quasi arrivati al termine quindi qua siamo nel momento nel quale le verdurine sono praticamente un po' croccantini a me piace rispettare molto la materia prima il colore la forma e tutto quello che è infatti abbiamo dei bei colori vivaci abbiamo la pasta fresca che abbiamo tirato stamattina prima del tuo arrivo però io voglio fare una lasagna un po' diversa la facciamo aperta mi piace ok ce la scannelliamo noi eccetera eccetera quindi il discorso qua è semplicissimo nel senso che abbiamo i nostri fogliettini di pasta mi sono preparato dei coppapasta così noi ce la coppiamo quella che poi rimane in esubero ovviamente poi viene utilizzata in un altro modo mi piacereva molto il discorso di riuscire a dargli una forma uno tondo l'altro quadrato eccetera eccetera quindi aspetta che mi prodigo io prendo uno sgabello posso che ho la partita di basket dopo sì e se no i lombari soffrono soffrono arrivo vai 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 bellissimo questo lo vuoi anche te Luca no no grazie sicuro? sì sì sei gentilissimo va che fa bene perché i lombari poi dopo con la bimba che devi cullare noi siamo abituati a stare in piedi ah c'hai ragione come parrucchieri è vero mia mamma è parrucchiera io mangio in piedi davanti al frigo cioè pensa che roba assurda il fatto di essere un cuoco cucinare ma se si tratta di cibo fatto per me sì mangio dal frigo in piedi davanti al frigo apro però mi chiami tu a mezzanotte mi dici Luca spaghettino sì ti piace quella roba madonna mi divento matto giro un po' vai 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 io ho fatto l'esperienza in cucina a celebrity chef da Alessandro Borghese certo con la brigata e tutto quindi una roba una roba seria proprio il ristorante ero morto e io sono stato lì 4-5 ore non di più ero morto alla fine della giornata era pazzesco eh per quello che ho detto fammi sedere perché siediti siediti consapevole di quello che ho vissuto non vorrei mai no però cosa ne pensi del mondo della cucina in generale per quello che hai visto anche lì a celebrity chef eccetera allora credo che sia un mondo di grande interesse soprattutto come realtà culturale italiana ok ci contraddistingue nel mondo e quindi dobbiamo tenere alta la bandiera sono d'accordo io purtroppo non sono parte della squadra perché come ti dicevo prima non so cucinare se non le mie due o tre cose e cavalli di battaglia e basta certo quindi non sono neanche un fruitore però del contenuto ok alimentare in televisione perché non avendo quella passione non lo vado a ok ad approfondire ad approfondire però però credo che sia fondamentale per le ragioni di cui ti parlavo poco fa il piatto preferito dei tuoi figli eh andiamo un po' in paralleli in questo senso quindi la lasagna ok poi ci sono siamo molto etnici perché mia moglie è inglese eh però origini barbaros quindi tutto il il cibo caraibico ci piace molto eh piuttosto che il cibo orientale ci piace tanto ci piacciono ci piace sperimentare anche se abbiamo i nostri eh piatti fissi che sono appunto la lasagna la macaroni pie eh macaroni pie è bellissimo macaroni pie eccezionale che è una roba semplicissima cos'è la macaroni pie allora tu prendi eh cuoci la pasta la metti su una teglia poi correggimi tu perché io vai 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 la metti su una teglia metti dentro del formaggio tanto formaggio tanto formaggio ok e una salsa caraibica che è pazzesca che fa anti-genie per noi che l'ho quasi finita sta benissimo pure con le uova e poi lo mettete nel forno esatto una roba di una semplicità pazzesca è come se fosse una pasta al forno esatto dove poi il maccherone tu lo metti in verticale ti fai tutto un bel disegno fai colare la pasta all'interno e poi lo fai infatti pie perché è da torta e quindi diventa una roba effettivamente mostruosa esatto è un po' tipo un mac and cheese sì ok però dentro lo stampo della torta poi la shepherd's pie ok shepherd's pie è un piatto povero di origine inglese ok che è fatto con il ragù e le patate sempre nella teglia tu fai uno strato di ragù e uno strato di patate sopra e lo metti in forno ok patate purè sì sì fatte a purè e le metti in forno e quelli sono un po' i capisaldi poi io sono un grande fruttore delle insalate insalate pollo legumi tanti legumi uno dei miei perni nella vita è lo sport quindi faccio un'ora di allenamento al giorno non è che faccio che faccia chissà cosa però propedeutico al gioco del basket che non ho mai fatto in vita mia ok l'ho iniziato a fare cinque anni fa quindi mangiare leggero tra virgolette è fondamentale deve essere cibo che nutre il tuo corpo affinché faccia degli sforzi di un certo tipo ecco questo ok va bene allora direi che ci fermiamo un secondo riassettiamo tutto e iniziamo ad impiattare allora Alvin qua abbiamo la pasta scottata qua tu dirai la lasagna dov'è la lasagna noi ce la creiamo vai nel senso che gli facciamo un bello strato di pasta centrale gli mettiamo su la nostra besciamella con la verdura cerchiamo di dargli una forma cercando di rispettare lo spazio nel quale abbiamo iniziato a lavorare il gioco sta un po' in quello quindi riempire un po' tutti gli angolini ecco l'impiattamento per esempio a Celebrity Chef ero riuscito a prendere un sacco di punti sull'impiattamento ok poi però se non lo mettevi in bocca avevo vinto invece era ci sta mettiamo un pochino di parmigiano perché è molto artistico no? si è la parte quella più tutta una parte interessantissima gli diamo ma giusto una scottatina si per sciogliere il parmigiano che gli dà quel bruciatino che ricorda un po' la lasagna sentite il profumo senti senti il parmigiano che sfrigola senti come va gli mettiamo su il secondo strato e rincominciamo questa è una lasagna vegetariana si aperta bravissimo poi detto con la voce di Alvi mi sembra tutto ancora più bello ho la voce un po' giù esatto cazzo però davvero voce stupenda cazzo che figata no è bellissima sai che non mi è mai piaciuta la mia voce no? no no porca miseria invece Alvin sembra beh fighissimo invece e invece mi hai fatto anche qualche doppiaggio corso di doppiaggio qualcosa ti è mai interessato? no ho doppiato me stesso in una serie che ho fatto in una fiction che ho fatto con Remo Girone Martina Colombari Laura Chiatti e ovviamente poi giri ma di solito ti fanno anche doppiare te stesso quindi ok ho fatto qualche anello di doppiaggio di me stesso sì anche ho fatto un po' di spiccheraggio su me stesso ma poca roba durante pensavo a questa cosa tra l'altro l'altro giorno a questo proposito che vabbè io quando avevo iniziato a Disney Channel nel 98 non c'erano i telefonini cioè c'erano i telefonini ma non erano così diffusi quindi io ce l'avevo però non vedevi i video telefonavi e basta telefonavi i messaggi e quindi le prime volte che mi facevano andare in regia per vedere quello che avevo detto era proprio via no 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 perché la tua voce ovviamente è diversa oggi nell'epoca del telefonino dove anche i bambini di sei mesi sanno che voce hanno questa roba non esiste più quindi non c'è più quel complesso lì impari a conoscerti già così quindi io ho dovuto superare invece quella roba che tutti quelli della mia generazione e precedenti hanno dovuto superare allora Alvin questo è il piatto che ho fatto esclusivamente per te oh yeah dimmi cosa ne pensi così su due piedi mi piace un sacco l'idea di stravolgere un piatto tradizionale in un modo così artistico diverso 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 dai ci sta questa cosa mi piace molto il fatto che ci siano verdure anche non sono vegano vegetariano ma prediligo verdure legumi rispetto alla carne poi se tu mi dici c'è un filettino che arriva da un posto particolare curato in un posto particolare io lo mangio senza senza nessun problema quindi fai l'assaggio così di la verità io nell'altro mentre mi preparo prepari la tua si esatto quindi tu inizierai a mangiare quando io berro al caffè esattamente però l'importante è che l'assaggi tu e mi dici cosa ne pensi sì critico baby ok hai seguito bene o mi faccio dare poi un trailer di come si fa la lasagna così perché noi la facciamo di carne perché lei è appassionata di carne e invece potremmo farla anche così ragazzi è una bella soluzione molto dai sono stracontento oh io la mangio certo è tua ragazzi il video di oggi termina qui così come anche la serie però non perdete tempo iscrivetevi qua sotto chi vi piacerebbe vedere nel prossimo episodio o nei prossimi episodi intanto noi ringraziamo il buon vecchio Alvin se il video non vi è piaciuto mastica ci vediamo al prossimo video ciao raga ciao Luca grazie ciao ragazzi ciao ciao ciao